Il tuo progetto delle terme è vecchio, è superato. A quanto pare non sono più necessario. Se ti verrà qualche nuova idea, se ne potrà riparlare. Roma non sarebbe Roma senza le sue straordinarie terme. Guarda quanta gente! Un'idea rivoluzionaria. Certo, che è proprio un tipo strano. Dei geroglifici su un prezioso papiro. Deve trattarsi di un documento di valore. 135 d.C. Ma allora è cambiato il corso della storia. Il Mediterraneo Grazie a tutti.